Milano conferma all'ultimo minuto. Rimarrete sbalorditi da ciò che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie sul Milan. Il Milan batte il PSG in Champions League e il Milan, ancora senza vittoria nel gruppo F di Champions League, è in fondo al girone con soli due punti. Davide Calabria è stato molto onesto nella sua valutazione post partita e questo è stato chiesto a Stefano. Pioli durante la sua conferenza stampa. Come sottolinea un quotidiano questa mattina, c'è un po' di tensione. Il calabrese ha parlato con prima e subito dopo la partita, leggi qui l'intervista, e non si è trattenuto. Ha detto che il Milan è molto sbilanciato e ha anche detto chiaramente che chi non vuole lavorare sodo nelle ultime tre partite può starsene a casa. Se non avete ancora lasciato il vostro like, fatelo ora per continuare a ricevere le notizie rosso-nere in prima persona. Come evidenziato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, vedi foto sotto, si è creata una certa tensione tra il capitano del Milan e l'allenatore Pioli. Quest'ultimo ha chiarito in conferenza stampa che Calabria ha sbagliato nelle sue dichiarazioni, forse riferendosi al fatto che i giocatori lavorano molto. Spesso perdiamo lucidità dopo le partite. Quello che abbiamo preparato in settimana lo abbiamo messo in campo contro il PSG. Davide ha sbagliato, nessuno lavora a Milanello con poca attenzione o disponibilità, ha detto. Sembra che alcuni giocatori abbiano vissuto la partita in modo diverso dall'allenatore, il che è tutt'altro che ideale. La tattica dovrà essere molto migliore nella seconda frazione o il risultato sarà lo stesso. Ora voglio sentire il parere di voi tifosi. Ha ragione Calabria? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discutiamo insieme di questa notizia.